I produttori agricoli dell'Emilia-Romagna hanno debutato all'Expo con i loro prodotti di eccellenza. È stata a Coldiretti Emilia-Romagna a portare per prima gli agricoltori della Food Valley italiana ad incontrare gente dell'Expo nella settimana che si concluderà il 14 giugno nel padiglione Coldiretti all'inizio del Cardo Sud. Più di 80 imprese in sette giorni hanno portato a Milano l'agricoltura di qualità dell'Emilia-Romagna che vanta 41 prodotti a denominazione di origine. È la prima regione europea per prodotti DOP e IGP. 356 prodotti iscritti nell'albo dei prodotti tradizionali, eventi, vini, DOC e DOCG. È anche, come dice Coldiretti Parma, una bella maratona di eventi e iniziative per far conoscere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. E ad aprire le danze è stata proprio Coldiretti Parma che ieri ha aperto il Salotto del Buon Gusto con l'evento Conversazioni Gustose a Tavola, uno spazio per promuovere e dare valore alle tipicità e specialità alimentari di Parma, Food Valley, per antonomasia. Sono intervenuti il direttore di Coldiretti Parma, Alessandro Consini, che ha conversato con Giancarlo Gonizzi, direttore del Museo dei Cibi di Parma e con Graziano Tonelli, direttore dell'Archivio di Stato, presentazione del primo disciplinare manoscritto del Parmigiano-Reggiano, datato 7 agosto 1612. A seguire il preludio di San Giovanni con una cena in terrazza a base di tortelli d'erbetta e prosciutto con melone.